Avvocato Bertini, allora a Lotti è stato creduto? A Lotti è stato creduto, le sue dichiarazioni accudatorie sono state fatte credute interamente, tant'è che effettivamente al Banni si è stato confermato il gasto, a parte l'obicidio 81, su cui Lotti stesso avrebbe poco da dire, direi che c'è una possibilità di un ricorso in calzazione per quanto guarda la pena ancora, perché in effetti pure con la concessione delle attenuanti delle generiche prevalenti, la pena rimane abbastanza elevata, per cui questa possibilità c'è, dobbiamo valutarla ancora, non è certo che lo faccia. Infatti ricordiamo che il Procuratore Generale Propato aveva richiesto una riduzione a 18 anni. Sì, Propato aveva chiesto questa riduzione di pena anche perché aveva previsto la concessione a Lotti della attenuante 114, mentre in questo caso la Corte l'ha esclusa, quindi ha tanto concesso la prevalenza delle generiche in 1914. È la diminuente prevista per un apporto di minima entità rilevante rispetto all'attività dei complici e questo è stato ritenuto non sussistente perché appunto ritengo che ciò che Lotti ha apportato all'attività dei complici non sia di minima entità. Ringraziamo l'Avvocato Bertini.